Buongiorno a tutti, eccoci all'ultima lezione sui mosaici di età medievale. Oggi dalla Sicilia di età normanna vi porto a Venezia, nella Venezia del secolo XI e XII. Come vedete ci occuperemo dei mosaici di San Marco, della Basilica di San Marco e di quelli della Basilica di Torcello. Quindi la prima immagine che voglio proporvi è quella che tutti conoscete della facciata attuale della Basilica Dogale. La facciata è molto nota, ha delle caratteristiche assolutamente originali ma ha subito anche una straordinaria trasformazione ed evoluzione nel tempo come vedremo. Quella che noi osserviamo è la facciata di una basilica che l'attore che tutti conosciamo Marco Paolini in una sua famosa pezza di teatro intitolato Il Milione ha definito una basilica pirata perché di fatto davvero i veneziani hanno riversato in questo luogo i frutti più preziosi dei loro saccheggi, delle loro razzie, dei furti o degli acquisti più o meno leciti che hanno effettuato nei secoli d'oro del loro sviluppo e della loro crescita come città mercantile. Penso per esempio uno su tutti ai quattro cavalli che per secoli hanno dominato la loggia della basilica e che sono stati il frutto del bottino perpetrato, perpetrato scusate, dai crociati guidati dai veneziani nella famosa crociata del 1204 quando i crociati invece di andare a recuperare Gerusalemme e i luoghi santi si sono fermati a Costantinopoli per volontà dei veneziani e l'hanno messa a ferro e fuoco. Quale fosse l'aspetto di San Marco all'epoca della sua costruzione e nei decenni successivi quando sono stati realizzati i mosaici di cui ci occupiamo oggi ovviamente non è dato saperlo. Abbiamo però alcune interessanti immagini che ci suggeriscono una possibile idea di come potesse essere la basilica. In questa immagine vediamo un corteo nel quale è indicato in modo specifico con la parola dux il doge che sta realizzando una cerimonia di ringraziamento per il rinvenimento di reliquie speciali ma insomma di questa cosa parleremo fra poco. Il mosaico è del XIII secolo e come vedete la basilica di San Marco all'interno della quale si svolge la cerimonia descritta ha le caratteristiche nell'aspetto, nella forma delle cupole in parte diversa da quella attuale. Infatti noi sappiamo che per esempio le cupole che sovrastano e dominano la nostra basilica sono frutto di un rialzamento avvenuto nel XIV secolo. Ancora nella facciata della basilica l'unico mosaico che risale all'epoca della costruzione in facciata è quello che troviamo sopra il portalino di sinistra e questo mosaico viene rappresentato il trasferimento delle spoglie di Santa Lipio all'interno della basilica. Ora ho dimenticato di ricordare una cosa molto importante a proposito della basilica di San Marco e cioè che per secoli San Marco è stata cappella dogale e non sede patriarcale. Per lungo tempo Venezia ha stabilito dei rapporti intensi ma sempre molto controllati con la chiesa e con Roma e il patriarca di Venezia quando finalmente viene a risiedere in città a lungo è stato il patriarca di grado a guidare come pastore la città quando finalmente patriarca si stabilisce a Venezia la sua sede sarà molto lontana dai luoghi del potere quindi molto lontana da piazza San Marco dal palazzo ducale e dalla cappella ducale sarà collocata infatti la cattedrale la sede vescovile arcivescovile sull'isola di Olivolo che è all'estremità est della della città lagunare. Questo mosaico oltre ad essere come ripeto l'unico antico sopravvissuto sulla facciata della della basilica ci rivela un altro fatto interessante cioè che nel ancora nel tredicesimo secolo la basilica aveva un aspetto largamente caratterizzato dalla muratura in mattoni a vista e questa considerazione ci consente di riconoscere anche le volontà originali dei costruttori della della nostra del nostro edificio infatti la basilica di San Marco ha avuto vicende cronologiche complesse costruita nel nono secolo a partire dall 836 per volontà di giustiniano partecipazio d'oggi per accogliere le reliquie di San Marco che erano state trafugate pochi anni prima ad Alessandria d'Egitto da Buono da Maramocco e Rustico da Torcello la prima basilica la più antica che doveva essere un piccolo edificio è andato in fiamme durante una rivolta nella seconda metà del decimo secolo e quindi nuovamente ricostruita a partire dal 978 dal doge Pietro I Orseolo ma la basilica attuale è stata completamente ricostruita per volontà del doge Domenico Contarini a partire dal 1063 e poi completata nel 1094 da Domenico Selvo e Vitale Falier ricostruita perché le dimensioni dell'edificio dovevano essere adeguate al prestigio all'importanza che Venezia riteneva di avere e di dover mostrare anche i suoi visitatori amici o concorrenti economici e politici che fossero quindi era necessario avere il doge Contarini è convinto di questo una cappella ducale che fosse ispirata ad alcuni degli edifici più prestigiosi e più importanti della cristianità ecco perché il modello deve essere stato è stato sicuramente quello della basilica dei santi apostoli a Costantinopoli che voi qui vedete a sinistra in una miniatura che risale al XIII secolo purtroppo l'unica immagino quasi che abbiamo della basilica dei santi apostoli a Costantinopoli è quella che vedete infatti la chiesa è stata demolita dagli ottomani verso la fine del 1400 non dobbiamo pensare che la demolizione sia stata determinata da cause religiose da motivi religiosi anzi gli ottomani erano rispettosi del cristianè dei cristiani e degli ebrei no è stata demolita perché ormai era in rovina abbandonata dal patriarca da molti decenni la miniatura ci aiuta poco a comprendere quale fosse in realtà l'aspetto originale della della chiesa costantinopolitana è molto più chiara invece l'immagine e l'aspetto della pianta della chiesa che vedete sulla destra è una pianta a croce greca con bracci liberi però e questo è un modello di pianta diverso da quello tradizionale bizantino che prevedeva una croce greca in pianta ma inscritta all'interno di un quadrato questo vedete una basilica molto vasta molto grande quindi richiedeva un impianto planimetrico originale cinque cupole dominavano anche ce lo dice la miniatura a questo edificio ora vi mostro vi mostro la pianta di san marco e come vedete è davvero esplicitamente ispirata a quella della chiesa dei santi apostoli resta il fatto che nell'edificio veneziano noi avvertiamo anche la forza e la possenza del mondo romanico che stava caratterizzando tutto l'occidente quindi i grandi pilastri gli arconi che strutturano all'interno lo spazio della basilica di san marco sono comunque riconducibili a una sensibilità occidentale e appunto romanica e a questo proposito vorrei mostrarvi la pianta di una basilica che conosciamo tutti molto bene eccola qui è la pianta della basilica di santa maria maggiore a bergamo come potete vedere è pure insomma con gli adattamenti alla struttura dello spazio del terreno in cui doveva essere collocata liberamente ma nemmeno troppo ispirata alla struttura delle chiese bizantine della chiesa dei santi apostoli e quindi in un certo senso anche a san marco ora noi sappiamo che nell'undicesimo secolo quando a venezia san marco viene costruita e all'inizio del dodicesimo secolo quando a bergamo viene costruita santa maria maggiore i rapporti tra le due città sono pressoché nulli quindi non ci può essere stata una contaminazione come direi di idee tra la città lagunare e la nostra città ma piuttosto penso a un intervento di un architetto o comunque di un orientatore di sensibilità di tradizione e di ispirazione bizantina come questo sia avvenuto a bergamo perché il vescovo di bergamo abbia deciso di realizzare una chiesa di impianto bizantino non è dato sapere a oggi ecco un'altra immagine interessante è questa miniatura una miniatura più antica della nostra chiesa basilica di san marco perché è la miniatura che si trova in un manoscritto scritto meno logion del 985 dopo cristo il meno logion è una raccolta di testi liturgici a geografici molto articolate e molto importante che conteneva il racconto delle vite e gli uffici dei santi ed era composta da 12 volume volumina ognuno corrispondente a un mese dell'anno quello che quello che vedete è la miniatura del meno logion di basilio secondo imperatore di costantinopoli e rappresenta il trasporto del corpo di san giovanni crisostomo nella chiesa dei santi apostoli a costantinopoli appunto ribadisco quanto detto prima i costruttori di di san marco vogliono evidentemente insomma ricondurre la loro basilica al prestigio all'importanza della chiesa costantinopolitana ed ecco l'interno della nostra basilica con i suoi preziosissimi mosaici in tessere dorate con i suoi marmi preziosi la decorazione della basilica e sono decine di migliaia di metri quadrati di mosaici ha naturalmente richiesto molto tempo per essere completata ma la cosa interessante è che c'è una coerenza complessiva molto evidente del messaggio dottrinale che doveva essere veicolato dai mosaici stessi e questo lascia intendere che pur nei tempi così lunghi della realizzazione pensate che ci sono mosaici realizzati all'inizio del 1600 e i primi risalgono alla fine dell'undicesimo secolo comunque pur essendo così lungo il tempo di esecuzione si è seguito comunque un progetto originale che era già perfettamente organizzato e definito da subito quando ancora tra 1400 e 1500 importanti artisti come non so andrea del castagno filippo lippi paolo uccello per il 400 tintoretto per il 1500 sono dovuti intervenire con i propri disegni da fornire ai mosaicisti della basilica hanno sì proposto immagini che formalmente erano associabili alla sensibilità e al gusto estetico della loro epoca ma dal punto di vista iconografico erano perfettamente costruiti sul modello originale secondo i principi spiritori originali vi assicuro che entrare lo avrete sperimentato entrare nella basilica di san marco significa davvero farsi travolgere dal dal gusto e dal piacere per la visione resta il fatto che la lettura e la interpretazione in chiave iconografica e formale di questi mosaici è davvero cosa molto molto complessa ora tradizionalmente quando si parla dei mosaici di di san marco si fa riferimento alla tradizione bizantina come se tutta la complessa decorazione della basilica potesse fare riferimento a quest'unica sensibilità così non è l'abbiamo appena detto insomma addirittura ci sono voluti sei secoli per completare il ciclo di decorazione quindi è chiaro che c'è stata una grande evoluzione nella sensibilità delle forme e dei modelli di ispirazione ma già nel momento in cui si dà inizio alla decorazione della basilica in realtà i modelli compositivi sono numerosi articolati non non esiste solo un modello di riferimento costantinopolo itano orientale bizantino come saremmo portati ad immaginare anzi dobbiamo anche tenere conto del fatto che i mosaici che appaiono a san marco non sono i primi mosaici che vengono realizzati nell'area lagunare e nell'area veneta anche se noi oggi tendiamo a dimenticare questo aspetto perché la gran parte dei mosaici contemporanei sono andati per tu perduti l'arte del mosaico di san marco nasce da molte dalla convergenza di molte linee di modello e di interpretazione sicuramente sono presenti componenti di gusto ravennate perché ravenna è stata per secoli la città di riferimento per venezia il luogo dal quale pro si esercitava il potere da parte dell'esarca di ravenna sulla laguna e su tutto il mediterraneo settentrionale quindi il modello di ravenna dei mosaici ravennati di età tardo imperiale è senz'altro presente su questo modello si innesta la cultura che un tempo era definita benedettina cioè il nuovo linguaggio in qualche modo costruito intorno alla figura dell'abate desiderio a monte cassino nell'undicesimo secolo e ed è un linguaggio che parte da una componente bizantina per approdare però una forza un vigore di narrazione di comunicazione che ha le sue origini in occidente e anche addirittura nell'arte paleocristiana che desiderio e monaci benedettini recuperano come fonte di ispirazione spirituale primaria e infine un'altra componente importante e riconoscibile è quella dell'arte occidentale in senso pieno cioè quella cultura che è detta arte ottoniana che si era diffusa nell'Europa centrale con importanti poi anche ricadute nell'Italia settentrionale e che era caratterizzata da figure molto allusive piuttosto sintetiche come vedremo nella loro definizione con campiture appiattite ma anche fortemente comunicative un esempio così che mi viene da suggerirvi di questo tipo di cultura che forse conoscete è quello che noi abbiamo visto nel resti rinvenuti sotto il duomo di Bergamo negli affreschi del recinto presbiteriale che li sono stati rinvenuti ma per farvi verificare come intorno a prima insomma di San Marco altre esperienze di carattere musivo significativo e articolate nella loro definizione venissero manifestandosi nelle aree lagunari vi mostro questo mosaico molto interessante che risale all'inizio del XII secolo ed è un mosaico che era stato realizzato per una chiesa conventuale di Murano e in particolare per il monastero benedettino di San Cipriano ora come vedete si tratta di un mosaico absidale ma la cosa che ci incuriosisce è la scritta in tedesco che gira tutto intorno all'estradosso dell'arco vedete dell'arco trionfale cosa è successo è successo che Federico Guglielmo IV che sarebbe diventato re di Prussia nel 1840 quando ancora era principe ereditario nel 1836 quindi siamo in un'epoca molto vicino a noi ha fatto un'offerta che non poteva essere rifiutata appunto per poter acquistare i mosaici del monastero benedettino di San Cipriano a Murano che soppresso in età napoleonica era talmente in cattive condizioni che stava per essere demolito quindi il mosaico viene staccato a Massello trasferito in Germania e collocato in una chiesa appositamente costruita nel parco di San Sussi a Potsdam dove ancora oggi lo possiamo riconoscere il mosaico mostra un Cristo pantocratore al centro con il libro della vita con il Vangelo in mano e la destra come sappiamo alzata in segno di benedizione alla sua destra stanno Maria e San Giovanni Battista no scusate dunque da un lato e all'altro la destra a sinistra stanno Maria e San Giovanni Battista all'estremità sinistra sta San Pietro e all'estremità destra San Gimignano. Per ultimo nell'arcone che introduce Alcatino absidale come vedete sono rappresentati due arcangeli e l'agnello mistico. Il modello di riferimento per questi mosaici è quello della cultura ravennate non solo per l'articolazione la successione delle scene ma proprio direi anche osservandola del vicino per il reccheggiamento classico delle figure l'eleganza dei panneggi la caratterizzazione dei volti insomma direi che c'è uno sforzo di nobilitazione dell'immagine davvero davvero considerevole ecco evidentemente ancora tra undicesimo e dodicesimo secolo in laguna era forte la memoria dei rapporti con Ravenna nei primi secoli della storia della città lagunare in particolare del ruolo dell'importanza che ha avuto l'esarca ravennate che era il governatore di Ravenna in nome dell'imperatore di Costantinopoli come sapete ma anche il ricordo del magister militum che esercitava la sua autorità in laguna in collaborazione con il dux che sarà poi appunto come sappiamo il nostro doge altro esempio significativo di richiamo esplicito alla tradizione ravennate è rappresentato da un mosaico che si trova nella basilica di santa maria assunta torcello una dei due luoghi di cui ci occupiamo oggi nella crociera che sta davanti alla al pastoforia di destra cioè alla cappella terminale della navata destra quello che appunto nella tradizione bizantina veniva chiamato pastoforio dicevo al vertice della crociera che sta davanti all'abside all'absidiola di destra di santa maria assunta murano è collocato questo spettacolare mosaico con l'agnello mistico che viene sollevato da quattro angeli all'interno di un contesto di decorazione musiva straordinariamente affascinante ed articolato guardate come viene divisa la struttura della crociera con queste spirale queste grandi cascate di fiori e di frutta insomma davvero un'immagine molto affascinante intorno all'agnello mistico ora un modello preciso è quello che ha ispirato i mosaicisti di torcello ed è quello ed è quello ve lo mostro della crociera presbiteriale di san vitale a ravenna ora il mosaico ravennate risale come forse sapete alla prima metà del sesto secolo dopo cristo ma pura distanza di secoli direi sei secoli i mosaicisti di torcello si sono esplicitamente e direttamente ispirati al mosaico di ravenna direi che non ho bisogno di commentare insomma la vicinanza tra le due esperienze è stata del resto così forte l'evidenza della discendenza della dipendenza del mosaico di torcello da quello di ravenna che per lungo tempo questo ha creato perfino difficoltà nella datazione dei mosaici di torcello perché essendo così vicini a quelli di ravenna gli storici dell'arte tendevano ad anticipare molto la loro realizzazione che invece è definitivamente stata ricondotta al dodicesimo secolo bene riprendiamo quindi l'analisi dei riferimenti formali e iconografici che hanno ispirato i mosaicisti di san marco oltre ai riferimenti ravennati come dicevamo un altro importantissimo modello è ovviamente rappresentato da bisanzo e dai mosaici orientali quello che vedete è il cristo benedicente assiso nel cuore nel centro dell'universo secondo una modalità di definizione della dell'universo che già avevamo visto ricordate nei nel mosaico della natività in relazione alla stella della natività quindi il cuore della dell'universo è scuro di blu scuro perché rappresenta la luce increata del padre e via via si si schiarisce fino a diventare la luce bianca dell'universo terreno della della terra bene questo mosaico è nel cuore della cupola più importante di san marco la cosiddetta cupola dell'ascensione quella che sta all'incrocio tra i due bracci della chiesa ora non abbiamo difficoltà a riconoscere la matrice bizantina di questa immagine vi mostro un ma un cristo benedicente che conoscete molto bene che quello della cappella della martorana a a palermo che risale è stato realizzato pressa poco negli stessi anni in cui i mosaicisti lavoravano a a venezia e allo stesso modo vedete anche questo particolare di uno dei mosaici di monreale ci consente di verificare come il modello di costruzione del panneggio la struttura complessiva dell'immagine sia riconducibile ad una stessa matrice che è quella appunto di origine bizantina e infine arriviamo ad un'altra componente forte del linguaggio dei mosaici di san marco che è quello che poco fa abbiamo definito una cultura di gusto benedettino diciamo così anche se il termine ormai è un po' desueto si tratta di una cultura pittorica che quindi influenza molto anche la cultura dei mosaici presente in italia soprattutto nell'italia centro meridionale e realizzata da maestranze italiane che si erano formate nel contesto del rinnovamento spirituale formale voluto a monte cassino dall'abate desiderio appunto nell'undicesimo secolo le caratteristiche di questo linguaggio è quella di guardare da un lato come dicevamo la grande tradizione di bisanzio e dall'altra di trarre ispirazione soprattutto ispirazione iconografica e dottrinale dalla tradizione delle grandi basiliche paleocristiane e anche in parte dalla decorazione di quelle piccole porzioni di catacombe che allora si conoscevano seguendo quindi in questo modo anche i suggerimenti della riforma gregoriana che era stata da poco introdotta nella chiesa. Quello che vedete è l'interno della chiesa di Sant'Angelo in Formis presso Capua gli affreschi adesso ve li mostro qualcuno nel dettaglio sono stati realizzati tra il 1072 e il 1078 da artisti dei quali ovviamente non conosciamo il nome ma sappiamo che tutto il ciclo è stato eseguito per volontà dell'abate desiderio di monte cassino che era anche abate di questa monastero adiacente alla chiesa di Sant'Angelo appunto. Ecco come vedete il Cristo Pantocrator che si staglia nel catino absidale della chiesa di Sant'Angelo ha caratteristiche che rinviano decisamente all'esperienza bizantina anche se c'è una caratterizzazione direi nella sottolineatura forte dei tratti del volto nella definizione lumeggiata del panneggio di caratterizzazione fisica del personaggio. Guardiamo poi una delle scene del Nuovo Testamento che stanno sulla navata principale, ecco ho scelto per voi l'immagine dell'ultima cena, è piuttosto evidente come il richiamo formale di questa immagine ancorché in qualche misura riconducibile ancora all'esperienza bizantina, all'appiattamento delle figure, i grandi occhi allusivi, sia però da rintracciare soprattutto nella tradizione, nella grande tradizione della decorazione paleocristiana delle prime basiliche costantiniane a Roma. Lo verifichiamo nella particolare struttura della tavola, nella disposizione dei personaggi a raggera intorno, che è proprio caratteristica dell'età paleocristiana, nell'atteggiarsi degli apostoli secondo posizioni della testa articolate in modo da connotarle individualmente e direi che è interessante anche la disposizione del cibo e degli oggetti sulla tavola. Quindi insomma una cultura che pur derivando dall'esperienza bizantina che era quella dominante nell'Italia centro-meridionale dell'epoca, ha comunque anche una fonte di ispirazione dottrinale e iconografica non necessariamente riconducibile all'Oriente. E infine, per ultimo, facciamo riferimento alla componente, chiamiamola così, centro-europea della cultura presente in Laguna all'epoca della costruzione di San Marco. Si tratta di una cultura figurativa che viene definita ottoniana ed è caratterizzata dalla ripresa di schemi e di motivi compositivi ancora più antichi di età carolingia. In quest'arte ottoniana, che è un'arte colta, un'arte di corte, come del resto la definizione ci suggerisce, si fondono anche spunti bizantini, lo vediamo in questa struttura molto pacata, molto solenne delle immagini, ma abbiamo anche una grande forza espressiva dei gesti e questa invece è tipica del mondo germanico, così come tipico un po' di questo linguaggio sarà la tendenza a circondare le figure con un profilo unico e molto netto, l'appiattimento delle campiture cromatiche e così via. Questa particolare matrice culturale è quella che più fortemente guida i mosaicisti di San Marco quando devono definire isolate figure di santi proposti ad venerazione. Ora l'immagine che vedete non ha nulla a che vedere con San Marco, se non come motivo di relazione, si tratta infatti di un affresco che si trova nella cripta realizzata sotto la zona presbiteriale della basilica di Aquileia. È un affresco della seconda metà del XII secolo e rappresenta San Pietro a sinistra che consacra San Termacora, vescovo di Aquileia, alla presenza di San Marco. Ora queste figure di santi, San Pietro, San Marco e San Termacora, li ritroveremo con un ruolo molto importante all'interno della basilica. Ma torniamo, torniamo appunto all'interno della basilica perché vorrei osservare con voi, con questo, lo squaccio di quest'arcone, un aspetto molto caratteristico insomma di questo ambiente, di questo luogo e direi quasi unico, cioè l'estrema varietà di rappresentazione, di modelli figurativi delle rappresentazioni. Questo determina questa varietà di modelli formali, comporta anche ispirazioni estremamente varie e molteplici. Questo per esempio, in questo arcone per esempio che vedete sulla destra, troviamo mosaici del XII secolo con scene della vita di Gesù, molto riconoscibili come mosaici di età medievale, di ispirazione, come abbiamo detto, bizantina, ravennata eccetera. Mentre a sinistra vediamo l'albero di esse, la rappresentazione dell'albero di esse e quindi della genealogia del Cristo, realizzato invece all'inizio del 1600. I due mondi formali sono lontanissimi uno dall'altro, l'esecuzione naturalmente risente anche di questa lontananza di sensibilità estetica. Guardate come sono diverse anche le scelte cromatiche che hanno fatto gli artisti di secoli così distanzi da loro, eppure resta molto solido e molto coerente la necessità iconografica di collocare l'albero di esse e la analogia del Cristo accanto alle scene che narrano la vicenda terrena del Cristo stesso appunto. Un'altra componente alla quale avevo accennato interessante è quella determinata, derivata dalla presenza a Venezia nella prima metà del 400 di esponenti della cultura figurativa nuova a Firenze, della nuova cultura rinascimentale fiorentina. La presenza di questi artisti si spiega con il confino di Pallastrozzi che viene esiliato dopo la sconfitta che subisce da parte dei medici, di Cosimo dei medici, che viene esiliato, dicevamo, Pallastrozzi a Padova. Pallastrozzi a Padova ama circondarsi di artisti che provenivano dalla sua città e che erano esponenti della nuova cultura figurativa e inevitabilmente l'arrivo a Padova di artisti del calibro di Andrea del Castagno, Filippo Lippi, a risonanza anche in Laguna. Ne approfittano di questa presenza così prestigiosa di artisti rinomati e famosi per la novità del loro linguaggio, delle monache veneziane, le monache di San Zaccaria. Il monastero femminile di San Zaccaria era un monastero molto prestigioso, lì venivano confinate, poverette loro, le figlie dell'aristocrazia del patriziato, anzi veneziano, e queste monache quindi molto ricche perché nei secoli ricevevano donazioni, doti prestigiosi eccetera, nella prima metà del Quattrocento decidono di ricostruire la loro chiesa abbaziale e una volta terminata il lavoro di esecuzione architettonica, chiamano, siamo nel 1442, Andrea del Castagno, il grande pittore fiorentino, a affrescare l'ombrello, le vele ad ombrello della loro chiesa e della zona presbiteriale della loro chiesa. Purtroppo l'impresa delle monache avrà un, sortirà insomma un risultato sventurato perché a distanza di pochissimi anni dalla conclusione dei lavori si manifesteranno, come spesso succedeva a Venezia, dei cedimenti nella fondazione della chiesa stessa che quindi deve essere largamente demolita e deve essere ricostruita. Quella che noi vediamo oggi, che visitiamo oggi di chiesa di San Zaccaria è la ricostruzione della seconda metà del Quattrocento resasi necessaria dopo il crollo della chiesa voluta nella prima metà del secolo. Resta per fortuna, non si sono rovinati, non hanno subito crolli, gli affreschi di Andrea del Castagno che qui vediamo. Andrea del Castagno non, come dire, non rinuncia al proprio linguaggio fiorentino, anzi probabilmente erano le monache stesse a insistere, a suggerire lui perché manifesti le caratteristiche del nuovo linguaggio, infatti come vedete l'opera si propone come molto asciutta nella grafica, nei contorni, non c'è esibizione, come dire, non c'è indulgenza descrittiva, anedottica. L'artista imposta in modo molto coraggioso direi, data la sensibilità veneziana di quegli anni, le figure secondo criteri prospettici molto rigorosi dando loro una grande centralità, ma vi mostro più da vicino una delle vele, ecco vedete quella con Dio Padre in cui emerge proprio la sensibilità plastica e prospettica del nostro Andrea. Quindi dove viene lasciato libero di esercitare il suo linguaggio, di mostrare il suo linguaggio come desidera, anzi viene sollecitato a farlo, Andrea propone un linguaggio pienamente rinascimentale. Vediamo cosa succede quando viene chiamato a realizzare dei cartoni per i mosaici di San Marco. Ecco questi sono i mosaici che sono stati realizzati alla metà del 1400 su disegno di Andrea del Castagno. Ora noi possiamo notare due cose, da un lato che Andrea non rinuncia alla struttura prospettica di tipo matematico, alla quale ormai aveva aderito pienamente. Lo vediamo sia nell'episodio di sinistra, quello della visitazione, sia nell'episodio di destra con la Dormizio Virginis, la morte della Vergine. Anzi addirittura e soprattutto direi nell'edificio che sta alle spalle della morte della Vergine noi riconosciamo una forte matrice classica, addirittura un arco di trionfo viene suggerito dall'invenzione di Andrea, ma del resto riconosciamo una forte influenza della classicità anche nell'edificio che ospita l'incontro tra Maria ed Elisabetta. Detto questo, in particolare nell'episodio di destra, noi vediamo, come dire, disattese, comunque non interpretato, il modello di rappresentazione della morte della Vergine che ormai si stava diffondendo in Occidente da tempo. In Occidente da tempo non viene più rappresentata la morte della Vergine con la Vergine distesa sul letto e gli apostoli che piangono intorno a lei e il figlio, lo vedete qui, anche qui nella Mardone in alto, che scende all'accogliele l'anima, no, viene rappresentata l'assunzione della Vergine. Qui però Andrea viene chiamato a ricalcare un'iconografia di tradizione antica, di tradizione che noi potremmo definire bizantina, perché questo era il modello al quale anche l'artista più moderno, anche l'artista più aggiornato, veniva chiamato ad adeguarsi quando riceveva una commissione per la Basilica Ducale. Molto bene, quindi come spiegare, come giustificare un'articolazione così complessa che ha richiesto secoli per l'ultimazione e per certi versi anche continui rinnovamenti del tessuto musivo che spesso veniva deformandosi e rovinandosi. Per poter capire come sia stato possibile che il progetto così elaborato sia stato di fatto realizzato e conservato integralmente, ed era un progetto evidentemente realizzato da teologi, qualcuno ha fatto riferimento, e io ve lo cito così proprio per amore di cronaca e non solo, ha fatto riferimento alla riflessioni teologiche e all'immaginario meditativo di un monaco calabrese molto famoso, Giochino da Fiore, a sua volta teologo, che aveva immaginato così una struttura molto complessa del sapere e del sapere teologico e spirituale. Ovviamente in realtà Giochino del Fiore non ha nulla a che vedere con il progetto di decorazione della Basilica di San Marco, non fosse altro che i mosaici di San Marco sono stati iniziati molto prima che Giochino del Fiore nascesse, nel XII secolo. Se c'è un luogo nel quale, nella Basilica, qualcuno può aver pensato o aver fatto riferimento alla teologia di Giochino del Fiore, questo luogo è il mosaico pavimentale. Mosaici pavimentali che nella Basilica sono particolarmente articolati e complessi, anche essi per la verità sono stati iniziati ben prima che Giochino del Fiore nascesse, ma insomma qualcuno nel guioche del pavimento e negli intarsi preziosi ha voluto vedere proprio una riproposizione delle tesi di Giochino del Fiore, delle tesi che riguardano in particolare la dimensione trinitaria della fede cristiana. Comunque della fabbrica marciana sappiamo ben poco, come già è stato detto, ma è stato stimato che la realizzazione del pavimento sia comunque anteriore al 1070 o comunque l'inizio di realizzazione dei mosaici pavimentali sia anteriore al 1070. Come possiamo immaginare che fosse organizzato il cantiere interno alla Basilica di San Marco? Per certi versi proprio il pavimento con la sua complessità ma anche la necessità di strutturare secondo un processo di realizzazioni di disegni, di dime, di modelli compositivi geometrici e matematici, proprio questo pavimento può darci un suggerimento, può in qualche modo spiegare l'organizzazione interna del cantiere. Inoltre possiamo fare riferimento anche alle cantieristiche di cattedrali realizzate successivamente, delle quali c'è più nota l'organizzazione di cantiere. Possiamo quindi ipotizzare che esistesse un proto, così verranno chiamati nei secoli gli architetti di Stato a Venezia, quindi un architetto responsabile del progetto di insieme della Basilica. Da questo proto dipendevano i capimastri, i capibottega, che governavano le diverse filiere dei vari settori costruttivi, quello architettonico, quello musivo, quello pavimentale e quello scultoreo appunto. Partendo da questa considerazione, la complessità così stupefacente dei singoli motivi pavimentali porta quindi a immaginare che il loro autore fosse una figura diversa, naturalmente da quella del proto che coordinava tutti, ma anche da quella dei maestri mosaicisti che stavano lavorando nelle volte, nelle cupole e probabilmente, anzi sicuramente diversa anche dalle figure degli esecutori materiali poi del taglio e della posa dei pezzi. Quindi doveva esserci un cantiere per i pavimenti governato da un capomastro o da un ufficio tecnico, forse potremmo chiamarlo così, che era specializzato nella progettazione dei disegni e nello sviluppo quindi di tutto quello che serviva a realizzare questi pavimenti, ausini esucativi come dime, maschere di taglio, piani di posa eccetera eccetera. Insomma davvero quindi un cantiere molto articolato e molto complesso. Vi mostro anche un altro particolare, ecco vedete le ghioche di tradizione cosmatesca che sono largamente presenti anche nel pavimento di San Marco, la cui sintesi è disegnata a sinistra. Ma passiamo adesso al progetto iconografico nel suo complesso e a comprendere anche i vari significati molto articolati di questo progetto iconografico. Insomma è inutile a sottolineare il fatto che il primo motivo di decorazione della basilica è di tipo devozionale, ma questo è scontato e ne riparleremo, ma indubbiamente subito sotto all'intenzione devozionale c'era quella politica, l'intenzione politica. E la figura di Marco, dell'evangelista Marco non a caso ha una grande preminenza nella raffigurazione della basilica, anzi vedremo che addirittura per certi versi sia come la sensazione che tutto il complesso organismo decorativo della basilica sia stato concepito per indurre l'osservatore a pensare che in fondo tutta la storia era stata orchestrata per portare Marco sulle rive della laguna e per fare di Marco il fondatore della cristianità in laguna, il che equivale a dire per celebrare attraverso la figura di Marco Venezia la sua forza e la sua potenza. Infatti in un certo senso politico-religiosa è la rappresentazione del santo al sommo dell'abside centrale del presbiterio, questa è una porzione del mosaico presbiteriale. San Marco nella zona presbiteriale dell'edificio funge da tre d'ugnon tra la figura di Pietro sulla sinistra e quella di San Termagora sulla destra. Con la mano indica Pietro, capo della chiesa e con la sinistra porge il testo evangelico in un certo senso alludendo insomma accennando a Ermagora l'altro grande protagonista della cristianizzazione di questa zona. Sulla sinistra un po' isolato come dire un po' fuori da questo gioco di gesti e di allusioni fisiche sta San Nicola altro grande protagonista della vita devozionale ma non solo della città lagunare San Nicola protettore dei mercanti è una figura centrale nella devozione veneziana e nella rappresentazione che di sé dà la città. Tant'è vero che sapete è famosa la spedizione veneziana a Bari per trafugare le ossa del santo e ancora oggi è viva la disputa tra le due città su quale delle due conservi il maggior numero di reliquie del santo. Questi che vediamo sono i mosaici più antichi della basilica, sono proprio della fine dell'undicesimo inizio, dodicesimo secolo. È un momento cruciale anche nella storia religiosa della città lagunare perché è appena terminata la lotta tra i due patriarchi quello di Aquileia e quello di Grado che si contendevano il controllo anche spirituale insomma tra virgolette della città lagunare. La lotta si conclude come dicevamo con la vittoria di Grado appoggiata in questo senso dalla Repubblica anche se poi i patriarchi quando verranno in visita a Venezia e quando poi risiederanno stabilmente a Venezia come abbiamo detto verranno tenuti ben lontani dai luoghi del potere. Quindi anche la presenza di San Termagora che come forse qualcuno di voi sa è protettore di Aquileia, il grande e celebrato protettore di Aquileia, fondatore della chiesa cristiana di Aquileia. La presenza di San Termagora ha un significato politico molto forte perché è come se i veneziani dichiarassero nella loro chiesa dogale che come dire le tradizioni e i privilegi della chiesa di Aquileia sconfitta e del patriarca di Aquileia sconfitto venissero trasferiti su quello di Grado e quindi in seconda battuta su Venezia e fra i tanti privilegi anche quello della fondazione ad opera dell'evangelista Marco per volontà di Pietro di cui San Termagora è il primo vescovo della cristianità in Laguna. Quindi davvero delle immagini esplicitamente, insomma marcatamente di significato politico soprattutto pensate per i contemporanei. Ecco la presenza di immagini e gli episodi relativi alla figura di San Marco e alla devozione per San Marco da parte dei veneziani sono molto frequenti all'interno della basilica. Questo mosaico per esempio di Gusto Ravennate racconta il martirio del santo avvenuto ad Alessandria d'Egitto nel primo secolo dopo Cristo e questa immagine è collocata nel contesto della narrazione della vicenda del santo che si concluderà con il trasporto delle spoglie del santo a Venezia dopo il trafugamento avvenuto come sapete nel nono secolo. anche quest'altro mosaico di gusto completamente diverso di tradizione invece più direi bizantina fa riferimento a un episodio legato leggendario sicuramente legato alla spoglia alle reliquie di San Marco. In questo mosaico come in quello adiacente che abbiamo visto all'inizio del nostro percorso viene narrata di come dopo il trafugamento delle spoglie di Marco e la loro collocazione nella prima e più antica basilica poi distrutta si sia persa traccia di queste spoglie e che solo in seguito all'ordine perentorio dato dal doge Contarini poi dal doge Falier qui rappresentato successivamente si sia riusciti a ritrovare a rinvenire queste reliquie questo corpo in un pilastro tumulato in un pilastro della basilica stessa dove le reliquie erano state dimenticate. Il mosaico rappresenta il momento in cui le reliquie vengono o meglio il momento in cui si celebra il ritrovamento delle reliquie che verranno poi depositate nella cripta della nuova basilica. Ora il fatto che si insista così fortemente nella narrazione non solo della vita del santo ma anche di questo presunto ritrovamento delle reliquie sta di indicare il fatto che all'epoca della costruzione della basilica è forte l'intenzione da parte del doge e della città di identificare se stessa con il santo e allora ecco che il santo viene ritrovato le sue spoglie vengono di nuovo venerate collocate in una zona più prestigiosa. L'identificazione tra la città e il santo evangelista pensate il leone alato di San Marco che va a definire tutti i luoghi in cui Venezia va a sersitare il suo potere ecco questa identificazione ha un significato squisitamente politico naturalmente ancora prima che religioso e mi viene in mente insomma mi viene alla mente come costantemente i committenti veneziani doge autorità pubbliche veneziane abbiano chiesto agli artisti di interpretare questa identificazione forte della città con le sue figure di produttori più significativi. Penso per esempio al ciclo di decorazione di palazzo ducale dopo l'incendio degli anni 70 del 1500 e come in quel cicli l'immagine della vergine e quella del leone come immagine di identificazione di tutta la città e della città stessa sia costantemente replicata. Bene a proposito del rinvenimento delle spoglie perdute di San Marco vorrei fare una breve digressione relativa ad una ipotesi peraltro accademica quindi non è affatto leggendaria piuttosto interessante ma insomma che necessita ancora di qualche probabilmente approfondimento ma insomma mi sembra interessante cioè una non molti anni fa già intorno al 2006-2007 uno studioso inglese uno storico inglese studiando la vicenda della sepoltura di Alessandro Magno in Egitto ha associato la sepoltura di Alessandro Magno con quella di Marco meglio la vicenda delle spoglie di Alessandro Magno con quelle di Marco. Lo spunto in un come dire l'idea di collegare la ricostruzione della vicenda funeraria di Alessandro Magno con quella di Marco è venuto allo studioso leggendo le cronache di una recenti insomma che risalgono al 1811 del trasferimento delle spoglie di San Marco dalla cripta nelle quali erano state collocate all'inizio del dodicesimo secolo la fine dell'undicesimo secolo anzi dalla cripta che era costantemente soggetta ad allagamenti all'altare principale della chiesa. Il responsabile di quel trasferimento l'ispettore Manin lascia una cronica molto dettagliata di quello che fa e racconta di aver rinvenuto nella sepoltura del santo due distinti corpi uno integro uno intero uno scheletro completamente conservato e accanto a questo invece delle ossa poche ossa sparse. Ora lo studioso inglese negli anni appunto i primi anni 2000 aveva studiato con grande attenzione la questione della sepoltura di Alessandro Magno infatti i cronisti ci raccontano che per volontà di Tolomeo generale come sapete al servizio di Alessandro Magno a seguito di Alessandro Magno le spoglie di Alessandro erano state portate in Egitto dove Tolomeo aveva fatto realizzare per il suo sovrano un grande recinto un grande temenos funerario a Menfi sul modello dei recinti funerari faraonici. A distanza di poco tempo però le spoglie di Alessandro erano state trasferite da Menfi ad Alessandro ad Egitto e questo ce lo confermano tutti i cronisti alessandrini con grande dettaglio e ci raccontano anche come fosse questa sepoltura che era un enorme recinto con una struttura al centro collocato in un luogo prestigioso della città all'incrocio tra due vie principali nei pressi delle mura anche di Alessandria d'Egitto. Il passare del tempo dei secoli però questa mausoleo che era stato fatto oggetto di devozione da parte di tutti gli imperatori romani per esempio sappiamo che Ceda, Cesare fino ad arrivare ad Augusto, Settimio Severo e poi Caracalla si preoccuparono di conservare non solo di rendere omaggio ma anche di conservare il monumento. Insomma finita però la grande epopea imperiale antica progressivamente ci si dimenticò di questo monumento anzi l'avvento poi del cristianesimo fece modo insomma di sfavorire ogni possibile forma di culto personale e progressivamente il monumento cadde in rovine venne sostituito da una piccola chiesa all'interno della quale guarda caso vennero probabilmente o meno secondo la tradizione collocati i resti dell'evangelista Marco il quale come sapete viene assassinato a colpi di mazza sull'altare al quale stava celebrando il sacrificio il suo corpo per oltraggio insomma per scherno viene cremato e i pochi resti sopravvissuti allo scempio verranno raccolti dai suoi devoti e nascosti per essere poi collocati finalmente durante il quarto secolo quando viene accordata la libertà di culto ai cristiani nella chiesetta sorta dove sorgeva il mausoleo di alessandro magno fatto sta che il nostro studioso inglese ipotizza che i due mercanti veneziani inviati a trafugare le spoglie di Marco quando arrivarono ad alessandria e aprirono il saccello nel quale erano conservati delle lingue si trovarono in fronte non a un corpo ma due corpi perché il corpo dell'evangelista era stato accostato avvicinato insomma e collocato accanto a quello del grande condottiero i due mercanti insomma presi un po alla sprovvista e dovendo fare in fretta avrebbero messo quindi entrambe le spoglie nello stesso cesto per poi portarle a venezia dove i due corpi sarebbero stati insieme e collocati naturalmente tutto questo deve essere dimostrato però ci sono due indizi diciamo così due piccole prove che potrebbero in qualche misura far pensare che forse non si tratti così di una fantasia troppo spinta da parte di questo studioso il quale peraltro ha presentato la propria relazione all'università di padova quindi insomma con tutti i crismi della scientificità ora il rilievo che vedete è un rilievo duecentesco che si trova lungo la facciata nord il lato nord della basilica rappresenta il volo di alessandro secondo la tradizione secondo questa leggenda alessandro magno per farsi portare in cielo da due grifoni che si rifiutavano di compiere questo gesto li avrebbe sollecitati al volo presentando loro due spiedi di carne che venivano come vedete insomma tenuti distanti in modo che i grifoni nel tentativo di raggiungerli potessero portare in alto alessandro ora la presenza di questo rilievo non significa realtà affatto che alessandro magno dovesse essere ricordato come presente in basilica infatti si tratta di un rilievo molto presente nella tradizione delle basiliche romaniche perché da un lato insomma è un rilievo difficile è un episodio difficile da interpretare ma probabilmente fa riferimento alla supponenza all'orgoglio di sé come motivo di peccato insomma l'altro indizio invece questo un po' più pertinente riguarda una pietra che è stata rinvenuta nel corso del restauro ottocentesco della cripta della basilica di san marco sostituita e portata oggi sta nel chiostro del convento di santa polonia che è sede del museo diocesano veneziano proprio alle spalle della basilica ora su questa pietra è disegnato uno stemma uno scudo vedete una rota è uno stemma che è esattamente quello che veniva utilizzato da filippo il macedone e dalla sua stirpe quindi è un simbolo direttamente riconducibile ad alessandro magno l'ipotesi che lo studioso fa è che questa pietra sia stata trasportata dai veneziani insieme ai resti di alessandro e che si sia voluta ricordare la presenza delle spoglie di alessandro dentro la basilica appunto collocando questa pietra in origine all'interno della cripta molto vicino alla sepoltura di san marco e a questo punto secondo il nostro studioso william chag anche di alessandro magno insomma questa cosa ci ha un po portato fuori fuori seminato torniamo quindi alla nostra basilica e alle intenzioni di carattere politica che dicevamo essere comunque presenti nella decorazione della nostra della nostra basilica questa è la cappella dedicata a sant'isidoro che è una delle cappelle che si aprono all'interno della della basilica sant'isidoro è uno dei protettori della chiesa e quindi anche i mosaici con le storie del santo più tardi vedete molto più tardi questi sono addirittura gli originali di questi mosaici risalgono al quattordicesimo secolo ma sono stati rifatti in epoca moderna sul modello di quelli antichi comunque anche il racconto delle storie di questo santo ha in fondo lo scopo di celebrare la città vedete come è messa in evidenza la nave la nave tra trasporto il porto e così via ma un po dappertutto nella chiesa ci sono santi santi isolati collocati sotto gli archivolti negli spazi delle pareti lasciate libere dalla narrazione bene questi santi come il san cesario che vedete nel sottarco della galleria sud sono santi che fanno riferimento alla vita della città sono santi che fanno riferimento alla chiesa locale protettori delle parrocchie delle scuole cioè delle corporazioni delle università dell'universalità eccetera in un certo senso quindi anche le componenti economiche sociali della città vengono rappresentate all'interno della basilica attraverso i loro santi protettori quindi come dire la basilica del doge in sé contiene tutti gli elementi di riferimento salienti anche sociali ed economici della vita della città quindi ecco su tutti i significati politici di proiezione civile sociale della città si stende naturalmente la grande epopea sacra con le storie di gesù le storie di marie le storie dei santi con anche escursioni significative nell'antico testamento penso in particolare alle storie di giuseppe che hanno largo spazio all'interno della basilica storie che vetero testamentari e naturalmente che fanno riferimento ad episodi che potevano proporre una lettura cristologica le rifigurazioni su tutte le pareti della basilica sono così affascinanti il racconto è così vivace che davvero lo sguardo di noi osservatori è costantemente catturato naturalmente non è possibile restare ore all'interno della basilica questo non è consentito anzi oggi purtroppo i tempi di visita sono contingentati ma quello che è certo che l'impressione che il visitatore ne tra il visitatore attento può trarre da questa fantasmagoria di immagini è che un po tutta la storia sacra converga verso questo evento straordinario dell'arrivo di san marco a venezia insomma l'ho già detto è come un po se tutta la storia sacra concorresse a celebrare venezia o meglio concorresse a celebrare il santo e quindi attraverso il santo venezia quindi potremmo dire banalizzando ma insomma forse non discostandoci troppo dal vero che le storie sacre narrate sulle pareti della basilica costituiscono un'esaltazione di venezia e vi ricordo l'associazione chiesa uguale venezia e così via questa immagine è molto parziale insomma mi sembra che però ci consenta di cogliere il senso davvero particolarmente affascinante della luminosità dorata di questi di questi mosaici pur così diversi formalmente tra loro ecco per esempio queste sono è un episodio delle storie di san giuseppe a questi episodi come dicevamo della vicenda di giuseppe vetro testamentari è dato molto spazio in basilica nella zona presbiteriale perché giuseppe appunto è considerata figura di prefigurazione cristologica e quindi anche questo episodio che racconta giuseppe che raccoglie come funzionario del faraone raccoglie grano per la carestia è particolarmente valorizzata vorrei osservare con voi come la grande naturalezza e della rappresentazione dei gesti dei movimenti la struttura plastica delle figure rinvii a una cultura classica di gusto ravennate ma proprio lì accanto insomma proprio a pochi metri direi di distanza davanti al presbiterio le storie della passione sono rappresentate secondo questo modello che è un modello invece tipicamente bizantino potremmo essere a monreale no o nella cappella palatina qui viene narrato vengono narrate successioni gli episodi legati alla orazione nell'orto degli ulivi si tratta di una mosaico del tredicesimo secolo ed è considerato uno dei grandi capolavori della della basilica sono tre i maestri impegnati probabilmente contemporaneamente sullo stesso come si dice non mi viene la parola sulla stessa impalcatura sullo stesso livello dell'impalcatura a realizzare la scena a ciascuno di loro è attribuita naturalmente una delle tre porzioni dominanti della della narrazione e se voi l'osservate la figura del cristo è sì simile ma non identica nelle tre nella successione delle tre immagini quindi c'è sicuramente come dire un proto o un capo del cantiere dei mosaici che regola la struttura e l'organizzazione del lavoro dei mosaicisti per cui per esempio le figure del cristo pur eseguite da autori diversi hanno la stessa dimensione i stessi colori in modo che siano riconoscibili e non ci possa essere confusione però ognuno di questi artisti poi declina secondo la propria sensibilità l'immagine del maestro vi faccio osservare anche il paesaggio roccioso nel quale spuntano fiori e alberi di straordinaria bellezza tutti o quasi tutti da significato simbolico la palma sapete l'immagine del cristo l'albero con tre rami ad indicare l'albero della vita l'albero della croce e così via interessante anche l'indifferenza degli apostoli rappresentata sulla sinistra con questi apostoli che dormono usciamo un attimo all'esterno della nostra basilica per poter avere una visione complessiva delle cupole che caratterizzano sia all'esterno sia naturalmente all'interno dell'edificio come dicevamo le cupole sono stati rialzati bulbi proprio i globi delle cupole sono stati rialzati nel corso probabilmente del tredicesimo secolo all'interno invece la decorazione delle cupole risale al momento proprio della prima esecuzione del ciclo musivo quindi la prima metà del dodicesimo secolo però mi serve questa immagine esterna per farmi osservare come sono distribuite le cupole quindi abbiamo tre cupole la principale delle quali è quella al centro lungo l'asse longitudinale della chiese e due cupole minori a destra e sinistra di quest'asse longitudinale purtroppo all'interno è quasi impossibile avere un'immagine che comprenda in modo unitario tutte le cupole addirittura difficile avere anche la successione riconoscibile delle tre cupole principali questa mi sembra un'immagine che più di tutta più di tutte ci restituisca la percezione delle tre cupole in successione lungo l'asse longitudinale principale delle delle tre decorazioni ma vediamole un po meglio nelle loro caratteristiche uniche vediamo come sono organizzate anche i cicli i temi dottrinali in queste cupole naturalmente la prima ad essere realizzate quella dal significato più remoto e più profondo è quella che sta sopra la zona presbiteriale la cosiddetta cupola delle manuele non preoccupatevi poi ve le mostro singolarmente anche da vicino insomma faremo un'analisi più condotta però insomma è importante osservare così questa organizzazione delle immagini perché comprendiamo meglio il significato dottrinale anche di questa successione iconografica quindi prima cupola rappresenta l'emmanuele al centro abbiamo il cristo pantocrator e intorno a lui la vergine e i profeti che nell'antico testamento ne hanno profetizzato la venuta sulla terra accanto alla vergine davide e san giovanni battista la seconda cupola la principale la più importante quella che come dire raccoglie in sé tutto il significato dogmatico e dottrinale profondo è la cupola dell'ascensione in essa vediamo al centro il cristo giudice sorretto dalle schiere angeliche e intorno a lui la vergine naturalmente e gli apostoli alternate figure di angeli che saranno chiamati a diffondere il credo del cristo le parole del cristo nel mondo quindi è la rappresentazione della come dire della chiesa terrena del cristo alla quale gesù nel momento della sua salita in cielo delega la continuazione della sua predicazione la diffusione della sua predicazione e infine l'ultima cupola è la cupola della pentecoste quella che si trova più vicina alla porta e segna il momento definitivo in cui dalla trono e poi lo vedremo meglio nel dettaglio dell'etimasia si dipartano le fiamme che raggiungono la vergine e gli apostoli quali andranno nel mondo a diffondere il verbo nella cupoletta del braccio sinistro è rappresentata o meglio la cupola del braccio sinistro è dedicata a san giovanni battista e quella di destra invece è dedicata a san leonardo come forse avete potuto notare le nostre cupole hanno una struttura molto irregolare non sono come dire non insistono su una struttura circolare perfetta questo indica l'antichità della loro costruzione e anche le difficoltà di erezione e di cupole che sono impostate direttamente sopra le vele che le collegano ai pilastri di sostegno questo ad indicare come le maestranze che potremmo definire romaniche che costruiscono questo edificio davvero operano secondo criteri che sono più artigianali che di vero processo scientifico nella costruzione dell'edificio ma passiamo quindi ad un'osservazione più nel dettaglio delle singole cupole in particolare delle tre cupole principali quindi questa come dicevamo è la prima la cupola dell'Emmanuele o dei profeti risale la prima metà del XII secolo ma insomma è stato calcolato che complessivamente non ci devono essere voluti più di una quarantina d'anni per realizzare le decorazioni musive delle tre cupole quindi alla metà del 1100 le tre cupole erano già decorate. Nella cupola dei profeti inizia quindi il percorso della storia di salvezza che viene poi a dispiegarsi lungo tutta la decorazione della basilica e nelle tre cupole centrali in particolare infatti in essa viene celebrato l'annuncio del messia da parte dei profeti che intorno alla vergine mostrano i testi delle loro profezie. Nel catino absidale subito sotto che io non vi ho mai mostrato e adesso capirete perché sta un grande cristo pantocratore signore dell'universo quello che noi vediamo oggi è un rifacimento del 1506 quindi da parte di un mosaicista rinascimentale dell'immagine originaria di tipo bizantino che noi però non conosciamo e non sappiamo come fosse. Il pantocratore in questo catino absidale quindi è collegato al pantocratore che è collocato al centro della cupola. Nella cupola il cristo appare tra miliardi di stelle con il rotolo della legge tra le mani e intorno a lui la vergine e i profeti si costituiscono una sorta di grande corona. La vergine ha una meravigliosa veste orientale vedete ed è presentata nella forma dell'orante. Quindi è come dire in attesa che il verbo scenda scenda su di lei. I profeti reggono un cartiglio che alludono a quella parte delle loro profezie che vengono lette come allusioni all'incarnazione, alla risurrezione di Cristo, al giudizio finale. In atteggiamento centrale o orante sta Isaia che indica il giovane al centro della cupola e pronuncia le famose parole ecco la vergine concepirà e partorirà un figlio che sarà chiamato Immanuele, Dio con noi. Ecco perché viene chiamata cupola dell'Emmanuele. E dall'altra parte, io forse prima ho sbagliato, ho detto che la vergine stava tra Davide e San Giovanni, no, tra Davide e Isaia. Quindi dall'altra parte Davide, capostipite della discendenza regale di Israele, indossa le vesti dell'imperatore bizantino e proclama la regalità del Cristo naturalmente. Il frutto delle tue viscere porrò sul mio trono, dice Davide. Ora, alla base della cupola, nei quattro pennacchi, sta il tetramorfo, cioè le quattro figure che tradizionalmente rappresentano gli evangelisti, ma come sappiamo in realtà la figura del tetramorfo è una figura molto antica, è una figura vetero-testamentaria, e Zecchiele prima e Isaia poi parlano di questa visione del tetramorfo come elemento che nel loro caso individuale precede l'investitura profetica e che è comunque costantemente collegata alla teofania e all'apparizione divina. E non è un caso che l'autore dell'Apocalisse si rifaccia a queste visioni profetiche quando nell'Apocalisse descrive l'animale tetramorfo che celebra costantemente la gloria di Dio. Quindi in questo caso il significato della presenza, tra l'altro chiarita dalla scritta che li accompagna, che dice quanto fu detto del Cristo tramite oscure allusioni agli evangelisti, è dato di rendere chiaro e per mezzo di loro Dio stesso si rende noto all'umanità, questa è la scritta, ecco il significato della loro presenza è questa lode, come dire, precedente la nascita del Cristo al verbo e quindi rappresentano sì gli evangelisti perché a partire poi da Gerolamo in particolare, la San Gerolamo in particolare, il tetramorfo, le quattro figure di animali vengono associate ai quattro evangelisti, ma insomma più che alle figure degli evangelisti alludono alla gloria eterna del Cristo e alla condizione del Cristo. Tra questa cura, quella dell'ascensione appunto, sta un grande arcone e che corrisponde tra l'altro anche perfettamente all'iconostasi sotto, che è in successione logica e liturgica con la cupola precedente. Infatti appare e qui viene rappresentato il ciclo cosiddetto della teofania, cioè dei momenti in cui il Cristo ha manifestato se stesso come Dio. infatti potete osservare che da sinistra verso destra si alternano in successione le scene che raffigurano l'adorazione dei magi, la presentazione al Tempio, il battesimo di Gesù e la sua trasfigurazione. Questi mosaici, come vedete, sono molto lontani dalla sensibilità bizantina medievale e infatti sono stati realizzati su disegno di Jacopo Tintoretto nella seconda metà del 1500. La rappresentazione del battesimo del Cristo ha caratteristiche molto molto diverse da quelle di altri battesimi che vengono rappresentati in epoca medievale all'interno della basilica. vi mostro per esempio il più famoso, quello presente all'interno della basilica, che vedete ha caratteristiche e moduli che sono tipici della tradizione bizantina. torno indietro, eccoci, la cupola dell'ascensione ha una forte struttura, come dire, di centripeta, cioè sembra che tutte le immagini convergano verso la figura centrale del Cristo e così deve essere nella narrazione della scena dell'ascensione e con tutto il significato dottrinale che questo comporta, cioè tutto tende, tutto l'universo terreno tende verso il Cristo. nella cupola della Pentecoste invece la forza è apposta, cioè dal centro la forza va verso l'esterno, perché questa è l'immagine che si deve suggerire, cioè come dal cuore della fede e dal Cristo, o meglio dal trono che ne rivela la sua natura e ne auspica il ritorno, la forza dello spirito venga sugli apostoli e sulla Vergine e da lì poi si diparta su tutto il mondo. Trovo che siano soluzioni compositive davvero molto interessanti, ve lo dico io tra l'altro da non credente, come sapete, insomma, ma trovo che da un punto di vista così della diffusione del pensiero, dello spirito e del cristianesimo, gli interpreti di questo tema siano stati particolarmente efficaci. Questo percorso lungo la struttura longitudinale della Chiesa, che è anche un percorso di educazione, di formazione cristiana, con l'ultimo arcone, quello più vicino alla porta d'ingresso, nel quale vedete compare il Cristo assunto in cielo nel momento del giudizio finale con la Vergine e San Giovanni al suo fianco e le schiere di Beati intorno a lui. Proprio sopra l'arco d'ingresso sta invece la rappresentazione dell'Apocalisse di Giovanni. Torniamo un attimo a qualche immagine di scene della decorazione musiva, tra loro molto diversa e questa è interessante per la originalità e la rarità in occidente del tema, è la rappresentazione dell'anastasi, se non voi ormai la conoscete, rappresenta il momento in cui il Cristo dopo la sua morte scende negli inferi per trarne i patriarchi e i profeti e qui vedete il Cristo che afferra la mano di Adamo per tirarlo fuori dagli inferi insieme ad Eva. L'ultima notazione di tipo formale e anche come dire di riflessione su possibili fonti di ispirazione riguarda la scena dell'ingresso del Cristo in Gerusalemme nella Domenica delle Palme. Un episodio molto noto insomma che abbiamo visto rappresentato in soluzioni compositive fra loro abbastanza simili. Questa però ha delle caratteristiche che la rendono un po' unica. Mi riferisco in particolare ai panni vedete stesi sotto le zampe dell'asina, ai fanciulli festanti davanti al Cristo e anche quelli che si arrampicano sugli alberi per vederlo. Sono elementi iconografici molto originali. Ora da dove viene questo modello compositivo che poi non avrà altrettanta ricaduta insomma in altre analoghe successive rappresentazioni, ma in realtà non sappiamo da dove venga. Però abbiamo una possibile chiave di interpretazione perché in una zona molto remota, molto lontana da Venezia e per niente tra l'altro come dire in relazione con Venezia se non per il fatto che si trattava di una zona in quel momento tornata sotto il controllo bizantino e mi riferisco alla Calabria appunto bizantina. In Calabria viene conservato da tempo immemorabile probabilmente proprio da questa età un codice preziosissimo, il Codex Purpureus, che ancora oggi possiamo ammirare nel Museo Diocesano di Rossano Calabro. Il codice è detto Purpureus perché come vedete la pergamena è stata colorata con la porpora che era il colore imperiale e questo ci fa pensare che si tratti di un codice realizzato o a Costantinopoli o a Antiochia da maestranze di miniatori molto colte, molto raffinate per una commissione davvero importante probabilmente una commissione imperiale. Bene, nei folghi 188 conservati del codice sono riportate molte miniature e una di queste è dedicata appunto all'ingresso di Gesù a Gerusalemme, ve la mostro un pochino più grande. E come potete vedere ci sono dei particolari iconografici che sono gli stessi che troviamo nel mosaico di San Marco. Abbiamo i panni gettati sotto i piedi dell'asina, abbiamo i bambini che sono un elemento iconografico davvero del tutto inconsueto che celebrano il Cristo, abbiamo anche le figure che si arrampicano sugli alberi per poter osservare l'ingresso del Cristo. Ora, che cosa voglio dire con questo confronto? Non certo che i mosaicisti di Venezia hanno visto il Codex Purpuros, questo è ovviamente impossibile. Quello che invece ipotizzo è che ci fosse una matrice comune, cioè che in una basilica purtroppo perduta, importante a Costantinopoli probabilmente, oppure una zona importante della Siria, fosse stata rappresentata un'analoga scena dell'ingresso di Gesù a Gerusalemme con i particolari iconografici che abbiamo osservato e che quindi diventano un'occasione di riflessione e di meditazione da una parte per i decoratori del Codex Purpuros e dall'altra per i mosaicisti di Venezia. Vediamo con le ultimissime immagini e vedete altra interessante originale raffigurazione, questa è un'annunciazione davvero inconsueta dal punto di vista iconografico, anche se quello di Maria che riceve l'annuncio dell'angelo vicino ad un pozzo è in realtà molto presente nella tradizione occidentale medievale. Ma certo per noi oggi se non ci fosse quella scritta meter feu sopra la testa della Vergine sarebbe molto difficile interpretare questo soggetto perché potremmo pensare piuttosto ad una samaritana al pozzo per esempio. Ora un'altra occasione di interessante osservazione riguarda la crocifissione che è collocata nell'arcone con le storie del Cristo, una crocifissione decisamente non bizantina, nella sua struttura guardate i personaggi dei carnefici davvero molto comunicativi pur nella loro impaccio costruttivo. Bene, il modello di riferimento più evidente mi sembra essere quello della pittura delle grandi croci toscane della metà del 1200, in particolare mi sembra forte l'influenza della pittura di Giunta Pisano su questo crocifisso senza dimenticare che il rinnovamento delle grandi croci, linee scontornate toscane fosse comunque un riferimento bizantino perché Giunta Pisano e gli altri che dopo di lui declineranno il tema del Cristo Paziens si rifacevano a un ellenismo paleologo che recuperava una tradizione molto colta, classica in ambito orientale, quindi ecco perché potrebbe essere arrivato a Venezia questo modello di un Cristo molto terreno con una struttura fisica costruita, sì ancora in modo molto grafico ma evidente, un Cristo Paziens, un Cristo terreno. Bene, abbiamo concluso il nostro percorso a Venezia, adesso molto velocemente ci occupiamo di Torcello e della Basilica di Santa Maria Assunta Torcello. Torcello è stato come sapete uno dei primi luoghi di rifugio da parte delle popolazioni della terraferma che tra VI e VII secolo hanno progressivamente abbandonato i luoghi di vita e di attività in terraferma sotto la spinta e dopo l'arrivo di popolazioni barbariche, in particolare dei Longobardi, i quali arrivano e si stanziano stabilmente sul territorio italiano. Gli abitanti di Altino con il loro vescovo e gli altri abitanti della terraferma all'intorno scelgono di trasferire la propria vita sulle isole della laguna. Torcello è una delle isole più vicine alla terraferma e quindi viene scelta per prima per la collocazione del nuovo abitato. Ora, a noi può sembrare una scelta davvero bizzarra questa di andare a rifugiarsi su isole che non avevano per esempio acqua dolce, che avevano condizioni molto instabili anche di vita, ma dobbiamo immaginare che in realtà le isole della laguna, pur mai veramente abitate in epoca antica, in epoca romana, siano state frequentemente luogo di rifugio delle popolazioni della terraferma quando le scorrerie barbariche travolgevano i loro territori. Quindi in qualche misura insomma gli abitanti della terraferma già si erano messi alla prova con la vita su queste isole. Torcello diventa il primo emporium della laguna di Venezia, il primo centro importante, anche il primo centro con un contatto significativo e costante con Bisanzio, che vi ricordo attraverso Ravenna dominava da un punto di vista giuridico questi terreni all'epoca della prima frequentazione della laguna. Quindi Torcello viene abitata e costruita, edificata quando ancora non esiste Venezia. Venezia verrà fondata qualche secolo, dopo. Oggi noi vediamo Torcello così, gli abitanti di Torcello delle isole, per meglio dire, che costituiscono Torcello, che sono diverse, non sono più di una quindicina oggi. Le isole sono caratterizzate da poche abitazioni, come vedete, da coltivazioni, da orti e così via. Non così era l'epoca in cui il centro episcopale di Torcello con la basilica di Santa Maria Assunta costituivano un luogo di riferimento spirituale molto importante ed erano sede vescovile. Infatti Torcello aveva migliaia di abitanti e tutte le isole erano completamente coperte di abitazioni, un po' come succede oggi per chi visita Venezia, no? Vede Venezia. Che cosa è successo? Beh, è successo che con il passare dei secoli e con il libero accesso in laguna delle acque, delle foci del Piave, del Sile, più giù dell'Adige e del Brenta, la laguna progressivamente si stava venendo ad impaludare, cioè stava facendo quello che la natura di solito fa in questi ambienti, le lagune diventano paludi perché le acque dei fiumi portano detriti e portano sabbie e terra, quindi le lagune si impaludano e poi diventano terra firma. Questo non è successo a Venezia perché a partire dal 1400 i veneziani hanno fatto in modo che il processo di impaludamento, di interramento progressivo della laguna si fermasse e hanno ottenuto che il fenomeno si fermasse buttando fuori fisicamente dalla laguna le foci dei fiumi più importanti, per cui il Piave, la foce del Piave è stata spostata più a destra, si è spostato un ramo del Po in modo che l'Adige potesse utilizzare quello come letto per il proprio percorso verso il mare e il letto dell'Adige è stato utilizzato per il Brenda, portato fuori dalla laguna, insomma si è bloccato il fenomeno dell'impaludamento ma non sufficientemente in fretta per Torcello, infatti già a partire dal 1300 gli abitanti di Torcello progressivamente abbandonano le isole perché purtroppo questa zona era infestata dalla malaria. Le ultime ad andarsene saranno del 1400 delle monache che ostinatamente cercano di restare lì fino alla fine e vengono letteralmente portate via di forza dall'isola e trasferite a Venezia. Ma già da tempo Torcello aveva ceduto lo scetro d'Emporium principale prima a Malamocco e poi a Rio Alto Venezia. Le case sono sparite e questo non è avvenuto per un fenomeno naturale naturalmente ma molto più semplicemente Torcello e le case abbandonate dei suoi abitanti sono diventate delle cave per gli abitanti di Venezia che dovevano costruire la nuova città e quindi pietra su pietra, pezzo su pezzo utilizzando chiatte e imbarcazioni, le pietre di Torcello sono diventate le pietre di Venezia. L'unico complesso ad essere preservato da questi furti, l'unico complesso è stato quello della Basilica di Santa Maria Assunta e il complesso episcopale nel suo complesso per ovvi motivi devozionali. È stata sede vescovile fino al 1800. Eccola qui la Basilica di Santa Maria Assunta. Se la Basilica che ha avuto peraltro vicende costruttive complesse e articolate un po' come quelle di San Marco, anche se in realtà la fondazione di questa Basilica è più antica rispetto a quella di San Marco. Comunque dicevo se la Basilica si è conservata integra non così per il Battisterio di San Giovanni che era addossato alla facciata della chiesa del quale come vedete restano pochi resti, si trattava di una struttura ottagonale con una vasca centrale che è andata distrutta, non sappiamo per quale motivo, forse un incendio, forse un terremoto, ne ha causato la distruzione e quindi anche le pietre che costituivano l'assetto murario di questo edificio sono state trafugate. La Basilica, dicevamo, è stata realizzata in epoca molto antica, nella prima metà del VII secolo, abbiamo anche l'anno esatto, il 639, perché è una lapide rinvenuta all'interno della Basilica, anzi collocata all'interno della Basilica attuale, racconta esattamente la storia della sua fondazione. Quindi nel 639, su ordine dell'esarca di Ravenna Isaccio, si dà inizio alla costruzione della Basilica per dare una nuova sede alla cattedra episcopale di Altina, di Altino. Infatti, insomma, proprio l'anno precedente si erano rifugiati qui i profughi della città della terraferma dopo l'invasione dei Longobardi. Il vescovo aveva trasportato con sé il tesoro e le reliquie di tutta la diocesi. Quindi il nuovo centro urbano sulle isole è diventato in breve, come vi dicevo, uno dei più ricchi e dei più prosperi mercati e emporio dell'antico Ducato di Venezia. La cattedrale quindi necessita di ampliamenti nel corso del tempo, viene quindi ampliata una prima volta nell'826 e infine nel 1008 la chiesa viene rifatta ad opera del figlio del doge Orseolo. Orso Orseolo si chiamava, il vescovo figlio del doge che ha voluto questa chiesa. A noi fa impressione oggi sentire figlio vescovo, figlio del doge, ma Orso Orseolo aveva tipo 13 anni quando dà inizio alla ricostruzione della basilica, quindi dobbiamo immaginare che dietro ci fosse il padre Pietro II Orseolo che attraverso la ricostruzione della basilica naturalmente dà lustro alla cateda episcofale del figlio e quindi più in generale alla famiglia. L'attuale basilica corrisponde a questa ricostruzione del 1800, 1008. Osservando la facciata della basilica è piuttosto evidente il fatto che la basilica è stata sopraelevata, vedete c'è proprio un netto cambiamento murario e questa sopraelevazione è da ricollegare appunto alla ricostruzione dell'undicesimo secolo. Il portico che sta davanti, è un artece esterno alla basilica, era quello che collegava la chiesa di Santa Maria Assunta basilicale con una chiesa adiacente, che tuttora esiste, la chiesa di Santa Fosca, che però io oggi non vi mostro perché è una chiesa molto bella, ma è una semplice chiesa romanica a piante centrali, un martirio senza decorazione, insomma esula un po' dal nostro riferimento. Però volevo farvi notare che succede per la chiesa di Torcello quello che era già successo a Radvena, cioè che la grande basilica ha un artece all'esterno, cioè un grande porticato, all'estremità del quale da un lato o da entrambi, in questo caso da un lato solo, viene collocata una cappella in funzione di martirio, cioè di luogo di sepoltura di un martire. Quindi il modello Ravennate si replica e si propone anche a Torcello, anche se noi oggi magari facciamo più fatica a riconoscerlo. Vediamo un po' com'è all'interno della nostra basilica, vedete un edificio a pianta basilicale di tradizione occidentale con una zona però del santuario, cioè presbiteriale, invece ancora di impostazione bizantina con i due pastofori a destra e sinistra dell'abside principale. La chiesa è caratterizzata dalla presenza di queste catene, cioè di queste travi, linee che risalgono alla ricostruzione dell'epoca di Orsorseolo, quindi all'undicesimo secolo, e sono l'evidente consapevolezza da parte dei costruttori veneziani del fatto che le fondazioni di questi edifici lagunari possono presentare dei problemi nel corso del tempo, quindi le catene servono proprio a tenere compatta, unita insieme la chiesa in modo che l'edificio si muova tutto insieme, sia nel caso di appunto cedimenti del terreno sottostante, sia in caso, peraltro frequente in questa zona, di terremoti. E come vedete l'edificio ha saputo reggere egregiamente allo sforzo del tempo e ai problemi del tempo. La parte per noi più significativa è rappresentata dal cateno absidale, dove nel corso del dodicesimo secolo viene collocata questa meravigliosa odiglitria. Finalmente vediamo un cateno absidale collocata la figura che tradizionalmente Bisanzio voleva che venisse collocata in questo punto, cioè la Vergine. Perché la Vergine sia del dodicesimo secolo, quando la chiesa risale ad oltre un secolo e mezzo prima, non è dato saperlo. Probabilmente c'è stato un crollo della zona absidale, forse è dovuto a un terremoto e quindi è stato necessario sostituire la decorazione musiva con quella che vedete. E sicuramente le maestranze che hanno lavorato a questa immagine, a quella degli apostoli che occupano la fascia sottostante lodiglitria, sono di provenienza marciana, cioè si tratta sicuramente di maestranze che stavano lavorando contemporaneamente anche all'interno della Basilica di San Marco e questo non ci meraviglia data che la famiglia del committente era la famiglia del doge. Adesso vi mostro più da vicino eccolo di gritia così potete coglierne meglio la straordinaria e raffinatissima eleganza nella definizione del manto, delle frange, vedete della veste splendida del bambino con queste lumeggiature dorate per sottolinearne le pieghe e quindi la dimensione plastica. La Vergine ha anche le tre stelle siriane sulle spalle, una nascosta naturalmente dal bambino, ad indicare le tre condizioni di verginità permanente della madre ed è un odiglitria perché come vedete con la mano destra indica il bambino, cioè è colei che indica la stada, infatti allude la definizione di odiglitria in greco. Le due absidioli laterali o meglio i catini absidali dei due pastoforia laterali, delle due cappelle laterali all'abside principale erano entrambe decorate a mosaico. Purtroppo l'absidiola di sinistra ha perduto completamente la decorazione emusiva mentre sopravvive fortunatamente la decorazione dell'absidiola di destra con l'immagine del Cristo benedicente pantocratore e accanto a lui i due arcangeli Michele e Gabriele vestiti con la lorica, cioè la corazza tradizionale, così come modelli bizantini e prima ancora Ravennati ci avevano insegnato a vedere. Ravenna, se qui il richiamo è esplicitamente alla tradizione bizantina, non così per la crociera che sta davanti al catino absidale con il pantocratore o meglio alla decorazione emusiva della crociera che vi ho già mostrato, qui vedete un dettaglio che avendo al centro l'immagine dell'agnello mistico replica e riprende un modello Ravennate molto molto noto. Il nostro percorso con il famoso e clamoroso per dimensioni mosaico del giudizio universale che si trova, come è ovvio che sia, in controfacciata. Molto spesso in epoca medievale la controfacciata era destinata proprio ad accogliere questa figurazione perché quella che il devoto era destinato ad osservare per ultima mentre usciva dalla chiesa e quindi anche quella destinata un po' a motivare la sua buona condotta nell'attesa del giudizio finale. Purtroppo il grande mosaico ha subito gravi danni nel corso del tempo ed è stato ampiamente rifatto in alcune porzioni che adesso vi segnalo. Comunque si tratta di un straordinario ciclo decorativo che possiamo ascrivere di nuovo alle maestranze operanti in San Marco. Vediamo un po' partendo dall'alto quali sono le scansioni narrative che vengono proposte. Vedete non c'è nessun rispetto delle proporzioni nelle raffigurazioni e le scene vengono rappresentate secondo criteri di direi di gerarchia prospettica per cui le figure più importanti più grandi e quelle meno importanti più piccole anche se questo contraddice la nostra sensibilità visiva. In alto abbiamo la crocifissione alla quale accosto la crocifissione di San Marco. È un accostamento un po' arbitrario nel senso che la crocifissione di Torcello purtroppo è stata tutta rifatta nel restauro ottocentesco e quindi non sappiamo se quella precedente fosse ispirata all'analoga crocifissione di San Marco però possiamo presumerlo. Subito sotto alla crocifissione sta la scena dell'anastasis che abbiamo già osservato. replica la scena dell'anastasis quella di San Marco per ovvi motivi direi. I due arcangeli loricati a destra e sinistra sono un rifacimento moderno mentre la scena centrale è largamente originale. Tralascio la porzione con il Cristo, con la Deesis di Maria e di Giovanni, con le schiere degli Apostoli e dei Santi perché insomma molto note. Passerei invece al trono dell'etimasia che sta subito sotto la figura del Cristo nella mandorla. Non mi dilungo nei dettagli descrittivi del trono perché ormai nelle nostre lezioni lo abbiamo osservati spesso. Vi faccio osservare però come in questo caso davanti al trono dell'etimasia vengono collocate due figure, una maschile e una femminile, che altri non sono che Adamo ed Eva, lì collocati a rappresentare tutta l'umanità che invoca il ritorno del Cristo sulla terra. Infine nella parte bassa accanto alla lunetta con la Vergine, o meglio sopra alla lunetta con la Vergine orante, abbiamo l'immagine dell'angelo psicopompo, cioè dell'angelo che pesa le anime e che contende le anime ai diavoli infernali e infine la rappresentazione a sinistra dei beati, dei santi, abbiamo la scena di Abramo che tiene in braccio il Cristo e poi di nuovo la Vergine, il Chirubini, i Serafini, San Giovanni Battista e così via, insomma non sto a dilungarmi, santi, martiri, santi e così via. Dalla parte opposta molto più interessante e molto più divertente invece la rappresentazione dell'inferno, come sempre chi sa perché l'inferno è più interessante anche se molto più spaventoso. Vedete che i peccati vengono, i peccatori vengono puniti con pene che in qualche modo corrispondono a quelle del contrapasso dantesco, insomma anche se tra Dante e questi mosaici in realtà non c'è nessuna relazione, i mosaici sono precedenti, la stesura della Divina Commedia e in ogni caso insomma è altamente improbabile che Dante li abbia visti. Piuttosto è interessante il fatto che sia i mosaicisti di Torcello sia Dante facevano riferimento ad un comune sentire, ad un comune immaginario. Le ultime nostre osservazioni, non posso esimermi dal farlo, riguardano invece la chiesa di Santa Maria e Donato a Murano, una meravigliosa chiesa dell'undicesimo secolo. Vedete l'absite di tradizione per certi versi romanica ma con quegli archi rialzati, insomma di gusto orientale che ci parlano di una civiltà, quella veneziana che davvero traeva ispirazioni da culture e da popoli tra loro diversi. Ecco andiamo a Murano della chiesa cattedrale di Murano, sta una bellissima vergine del catino absidale di qualche anno successiva a quella di Torcello, di pochissimo successiva, anche essa risale alla seconda metà del dodicesimo secolo e vedete realizzata con grande semplicità ma anche con grande forza allusiva con quel piedistallo vagamente prospettico che serve a dare fisicità e concretezza una figura altamente altrimenti altamente iconica e trasferita su un piano puramente metafisico. Per i pavimenti della chiesa di Murano purtroppo non sono riuscita a trovare un'immagine unitaria di questi mosaici pavimentali per realizzare le tessere dei quali sono state sicuramente saccheggiate le spoglie antiche della terraferma. Mi piace mostrarvelo perché ritroviamo alcuni degli elementi iconografici che nel tempo in qualche misura abbiamo identificato e ci riporta in un contesto di decorazione come abbiamo visto a San Marco straordinariamente ricarticolata e realizzata da maestranze diverse. Vi ringrazio molto per la vostra attenzione se volete seguire i miei corsi e mie ulteriori lezioni vi invito a contattarmi attraverso l'indirizzo mail che vedete oppure a consultare il mio sito www.visitarebergamo.it dove troverete dettagliate indicazioni su come contattarmi su come poter seguire le mie nuove proposte. Arrivederci a tutti e grazie per l'attenzione.